eccoci e bentornati sul mio canale buona domenica ragazzi bentornati sul nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty oggi parleremo di server parleremo di livelli resettati e parleremo dei prestigi perché finalmente vi posso mostrare tutti i prestigi presenti all'interno del gioco sono 10 prestigi più il prestigio master così vi faccio vedere tutte le icone vi dico subito che il prestigio master è veramente bellissimo ricorda tantissimo quello di call of duty 4 model warfare in versione hd molto più dettagliato come sempre vi ricordo di raggiungere almeno i 350 mi piace per il prossimo video di aggiornamento sul mondo di call of duty il 3 novembre day one di call of duty world war 2 ci sono stati come abbiamo visto veramente tantissimi problemi di server questi problemi ce li siamo portati avanti anche nella giornata di ieri bene oggi sembrerebbe essere tutto risolto infatti tramite vari twitter sia di michael condrai che della sledge armor games viene confermato che ci sono stati aggiornamenti sono stati implementati degli aggiornamenti per migliorare l'esperienza dei server online anche i quartieri generali hanno fatto parte della manutenzione quindi oggi non ci dovrebbero essere problemi anche perché la software house invita i giocatori di call of duty world war 2 a portare i propri amici nel quartiere generale infatti abbiamo visto come in questi giorni spesse volte eravamo da soli all'interno appunto di questa nuova funzione social perché c'erano continui problemi di server non è finita qui perché oltre a problemi di server quindi ci metteva tanto a trovare partite o non riusciamo a entrare nelle lobby ci dava il problema della lobby chiusa ad alcuni purtroppo sono stati anche resettati i progressi in game avete capito bene tantissimi anche dei miei iscritti mi hanno segnalato che si sono ritrovati magicamente al livello 1 nonostante avessero fatto diversi livelli del multiplayer bene la sledge armor games invita a contattare activision support su twitter come state vedendo per segnalare la cosa così ve la risolvono quindi per tutti coloro che hanno avuto a praticamente problemi di livellamento all'interno dei prestigi contattate l'activision support su twitter per risolvere questo problema inoltre già a partire da oggi ci dovrebbero essere nuovi aggiornamenti per fixare questo strano problema che hanno avuto diversi giocatori non è finita qui perché chiudiamo il video informativo con il botto perché sono stati svelati tutti i 10 prestigi più il prestigio master li stiamo vedendo e sono uno più bello dell'altro vi dico subito che il primo a me piace tantissimo perché ricorda perché ricorda l'epoca romana con queste scritte ma poi sono veramente molto molto belli tutti i prestigi a partire dall'otto dal 9 dal 10 il prestigio master che mi ricorda tantissimo la stella di call of duty 4 modern warfare qui sotto nei commenti mi dovete far sapere qual è il prestigio che vi piace di più se avete avuto ancora problemi di server e soprattutto quelli che mi avevano segnalato problemi di livellamento quindi di risettamento dei progressi se risolvono una volta che hanno contattato activision support arriviamo come sempre a 350 mi piace per il prossimo video informativo e noi ci vediamo con tanti nuovi video